Avvocato Tognazzi, quali sono secondo lei in questo particolare contesto di mercato le opportunità di business che il settore finance offre agli studi legali? Ecco, buonasera. Direi che in questa fase abbiamo ancora molte attività legate alla ristrutturazione dei finanziamenti, delle operazioni fatte in procedenza da un lato. Dall'altro il processo di disintermediazione prosegue, quindi c'è tutta un'attività di capital market che prosegue e certamente il settore bancario continua a fare attività di finanziamento. Poi ci sta tutta una grossa attività sui non performing loans e certamente è forse arrivato il momento che si possano cedere in quantità sostanziose.